buongiorno automobilisti oggi siamo qui con virus fiero a fare un hg no scherzo che dico un parkour insieme a virus oh scusami 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 allora ok basta andiamo subito a level 1 warning up bene allora subito no sono già caduto bravo allora siamo caduti in tra non ho mai portato questo tipo di modalità perchè cadiamo al primo block facciamo cagare proprio allora troverete il link del canale in descrizione di virus vi spero assistiamo riesce il primo e il secondo laggando ma non riesce a fare il terzo buona ti do una mano io dovrei avere qualche blocco no posso zombare tantissima ok sembro che ho fatto un blu bastardo ora no dai ti ho aiutato ti ho messo un blocco lì ok buona buona virus no no virus no non mi puoi fare questo allora come ho detto troverete il link del suo canale in descrizione stiamo perdendo più tempo vediamoci di prova ragazzi mettete il like solo per perché ci stiamo provando e abbiamo perso siamo caduti tantissime volte nel primo oh attenzione allargato grandissimo grande 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 allora parliamo al secondo Io sono una frana Nei parkour Quindi Vedrete un video Ci sono riusciti Grandissime Ci siamo riusciti Anche qua Bene Il ghiaccio si fa più dura No Mi bravo con i tasti Madonna Comunque stiamo su PlayStation 3 Per chi non l'avesse capito No E dai Non ho preso lo speed Non sento nessun suono Quindi due miseria ce l'ha fatta Sì infatti Ok Ora Mi trovo io Dalla parte del Della lama Benissimo Allora ecco Questi sono cazzuti Oh 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 No Oh di poco Di poco ragazzi Questo è davvero molto molto difficile Vai prego prima tu Ok Ah Ce l'ho così riuscito A mantenermi fisso Dai forza Forza Dai Ok Prima l'ho fatto No No Non ce l'ho fatta Per un pelo Eh ragazzi Questa è difficile Questa è tosta Ok Ok Ma andrò tutto tipo sparato Ah il cavolo Ragazzi è troppo difficile Non so quante volte siamo caduti Ok Qua non si può Troppo di onda Non mi trovo all'interno Della testa di Del signor Non mi ricordo il personaggio di Simson Quale Il prece della scuola No No Non ce l'abbiamo fatto Qua proprio non ce la facciamo Qua non ce la facciamo Ti ho sentito comunque un rumore di sottofondo E la ventilatura Senti a me mi è venuta un'idea Ok Ok Mo dovremmo Dovremmo farcela Che ne dici? Io me ne andrei Il virus Basta Ciao Non ti conviene venire Non si arrende il virus Per me è impossibile Il virus Attenzione che forse ce la fa No Vieni virus Vieni dai Corri Dai vieni qua Virus ti prego Bravo Ok Ah questo è quello più facile Leather party Adesso vi spiego come si fa Proprio è una cavolatissima Con sole C'è riuscito Buona Ah No io stavo tanto Non gli accetto Eh no Perché Ci devo riuscire Ci devo riuscire Forza Forza ragazzi No già Ok Ok Muserissimo Faccio schifo Veramente Yeah Grande Ok Abbiamo vinto Congratulazioni Abbiamo vinto Ragazzi Finalmente Allora Vediamo che cosa abbiamo Trocchi di diamante Mind the floor Dobbiamo minare Sotto Ok Dove stai? Ok Pronto? Allora io comincio L'acqua Allora io comincio da qua Ah lol Bene ragazzi ci vediamo al prossimo video Intanto virus che mi butta i virus Bene ragazzi ci vediamo al prossimo video Spero che vi sia piaciuto E niente se volete partecipare diciamo a questo tipo di video potete farlo tranquillamente Mi basta che mi inviate la richiesta su PSN e giocheremo con voi Quindi alla prossima Il link è il canale in descrizione di virus fiero Lo troverete appunto in descrizione E ci vediamo Ciao ragazzi E' schifo veramente Yeah Grande Ok Abbiamo vinto Congratulazioni Abbiamo vinto ragazzi Bene finalmente Allora Vediamo che cosa abbiamo Trocchi di diamante Mind the floor Dobbiamo minare Sotto Ok Dove stai? Ok Pronto? Bene ragazzi ci vediamo al prossimo video Spero che vi sia piaciuto E niente se volete partecipare diciamo a questo tipo di video potete farlo tranquillamente Mi basta che mi inviate la richiesta su PSN e giocheremo con voi Quindi alla prossima Il link del canale in descrizione di virus fiero lo troverete appunto in descrizione E ci vediamo Ciao ragazzi